Torniamo ai nostri tempi, la reggia di Venaria Reale quest'anno è stata trasformata in un enorme videogioco interazione e la parola d'ordine tra nuove mostre e programmazioni serali. Elisabetta Terigi. La facciata della galleria grande della reggia di Venaria, un enorme spazio dove proiettare le proprie luci e scenografie preferite premendo i tasti di un'enorme tastiera. Alla residenza Reale Sabauda quest'anno le mostre si fanno gioco non solo nelle serate d'estate con il light show ma anche nella mostra play dove si può fare un viaggio nel tempo entrando in una sala giochi dei bar anni 90 con Pac-Man e Street Fighter 2. Il filo conduttore della mostra è una domanda, cioè cosa sono i videogiochi per ciascuno di noi. La domanda poi viene meglio specificata in ciascuna sala partendo appunto dalla domanda principale che è se i videogiochi possono essere una nuova forma d'arte. Videogiochi sì, ma non solo. Si scopre che dietro quelle grafiche così elaborate ci sono in realtà famose opere d'arte. Un esempio sono le vedute della città metafisica di Giorgio De Chiri che hanno ispirato la copertina di Aiko, videogame dei primi anni 2000 a tre dimensioni. O le fantasie astratte di Vassili Kandinsky alla base del soggetto grafico di Rez, altro videogioco ambientato all'interno di un super network chiamato K-Project in onore proprio del grande artista russo. arte che ispira i videogame dunque, ma non solo. È vero anche il contrario, come è successo a Bansky con i Pokémon. L'uomo ha sempre giocato e il gioco è parte fondamentale della sua vita attraverso cui non solo scacciare i problemi, ma forse anche capirli. E la mostra ne sarà un'occasione.